ora dobbiamo gestire la luce niente di più facile la prima cosa da fare è partire dal buio sì esatto dobbiamo partire dalla minore quantità di luce possibile così da poterla impostare una volta per tutte e tutte le volte future saprai già come ottenere lo stesso risultato senza sforzi la prima luce che devi accendere è quella del pc il monitor del pc o del tuo smartphone è già una fonte di luce quindi usiamo la nostro favore durante la call tale luce potrà cambiare quindi ti consiglio di utilizzare una fonte di luce più stabile in aggiunta a questo accendi quindi una luce che ti stia davanti al viso che sia il lampadario come nel mio caso o una lampada di terra non importa ma è fondamentale che sia più avanti di te e più in alto del tuo viso la luce che dovrai accendere ora sarà quella che darà profondità alla tua scena puoi utilizzare una qualsiasi fonte di luce e basta posizionarla dietro di te in modo che illumini la stanza io ho una lampada ma con una luminosità non eccessiva le luci eccessive risultano più fredde mentre è sempre meglio comunicare con dei colori più tenui perché rilassano le persone che ci ascoltano e aiutano a trasmettere sensazioni positive ora devi solo ricordare queste impostazioni e replicarle ogni volta che vorrai se ci fai caso non importa se sarà notte o giorno se ci sarà il sole o la pioggia la tua scena sarà sempre sotto controllo per la luce è tutto quindi passiamo al prossimo video